Tutorial Plunge Tuck Advance Races, esercizio dinamico propedeutico per la planche, principale skill di spinta del calisthenics. Utile per lo sviluppo della forza sul retto dell'addome, spalle e braccia. Utilizzare una coppia di parallele, altezza minima da terra, circa 40 centimetri. Mani larghezza spalle, partire con braccia distese in blocco articolare dei gomiti, ginocchia piegate ad angolo retto con talloni orientati verso i glutei. Protrazione delle scapole, spalle depresse, seguire un'oscillazione da tuck sit ad advance tuck planche, senza tenere l'isometria e tornare nella posizione di partenza. Evitare di inarcare la schiena e di piegare i gomiti, in caso di difficoltà aumentare la velocità di esecuzione per sfruttare l'inerzia dello slancio.